Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Sono Stefano e oggi abbiamo pensato di realizzare questo video per chiarire una questione che ci viene spesso posta. Corde bronzo o corde fosforo-bronzo? Quali sono le differenze? Innanzitutto bisogna dire che l'anima delle corde è sempre in acciaio. Quello che cambia e che fa la differenza è l'avvolgimento della corda, la parte ruvida dei bassi, quindi sostanzialmente nelle chitarre acustiche delle corde di Mi, di La, di Re e di Sol. Allora, quando si è cominciato a produrre delle corde, la formula più comune era 85% di rame e un 15% di zinco. Questo creava una lega molto squillante ma con il problema che durava molto poco perché il rame ossida molto facilmente. Più frequente è diventata la miscela dell'80-20. Si trova spesso sulle scatoline delle corde, adesso qua vi faccio vedere un esempio, la scrittura 80-20, ok? 85-15. 80-20 vuol dire una percentuale leggermente minore di rame e leggermente maggiore di zinco per formare l'avvolgimento che copre l'anima della corda. Successivamente, dato che anche questo tipo di corda era abbastanza facile a deteriorarsi, si è pensato, questo negli anni 70 è avvenuto, si è pensato di fare una lavorazione al fosforo che proteggesse questa lega. Quindi leghe con maggior quantità ancora di rame al 92% al 8% di zinco ma poi passate lavorate al fosforo per cui si sono cominciate a produrre anche le corde fosforo bronzo, ok? Perché? Sempre per cercare di ottenere delle corde che avessero una maggiore durata, una maggiore resistenza alla umidità e all'aggressività del sudore delle mani. Abbiamo preparato per questo video due chitarre esattamente identiche con due mute di corde montate con la stessa scalatura, in questo caso 10-47. Nel primo caso corde bronzo 80-20, le riconoscete alla vista perché sono più gialline, ok? Nel secondo caso corde fosforo bronzo, sempre scalatura 10-47. Adesso ne proviamo un attimo per farvi sentire le differenze timbriche, ok? Proviamo per prima di tutte la corda classica l'80-20 bronzo. Suono molto squillante, molto scampanante si potrebbe dire, ok? E subito dopo proviamo invece le corde fosforo-bronzo. Suono più bilanciato, più equilibrato, ma anche un po' più chiuso, più morbido, ok? Ecco, queste sono le differenze principali in questi due tipi di leghe che si utilizzano per le corde da chitarra acustica. Moltissime le marche che propongono sia l'un tipo che l'altro e non c'è un modello, diciamo, una corda migliore rispetto all'altra. Ecco, forse il fosforo-bronzo dura un pochino di più, d'accordo? Però è sempre una questione di gusti, quindi dovete cercare di trovare la corda che è più adatta alle vostre esigenze. Potrebbe piacervi addirittura magari anche l'85-15, la più squillante di tutti in assoluto. Bene, con questo è tutto. Io spero che il video sia stato utile e vi sia piaciuto. Se volete iscrivervi al nostro canale YouTube Cosa Gradita, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!